allora qui intanto festeggiano la madonna al paese fanno i botti, i morti i morti fanno i botti qui al paese dove sto ci sono tanti zombie da Roma che vengono diciamo, le seconde case vengono qua mi sento feste a Roma adesso questi mongoloidi c'è un mongoloide attaccato a me che c'è la moto che fa casino questi mongoloidi come se in questi ultimi anni non fosse successo un cazzo siamo stati violentati io posso capire i mongoloidi morti che hanno già preso il succo e tutto magico ma la gente che sta qui su telegram che viene qua non c'ha un cazzo da dire questa gente l'ho rimossa adesso dal canale perché non ha un cazzo da dire vede ma non interagisce ma che non ci avete un cazzo da dire porca troia ma anche dopo questi tre anni di inferno che abbiamo passato non vi viene in mente un cazzo da dire proprio per me siete morti e vi caccio cazzo cazzo da dire oh siamo stati appena violentati e uno dovrebbe essere minchia come cazzo faremo qua che questi ricominciano un'altra volta questa cosa che ci hanno fatto no la gente non c'ha un cazzo da dire niente quanti morti ho fatto fuori qua uno due tre quattro cinque sei sette morti perché appena è entrato un altro morto qua che si chiama Leonardo questo almeno stranamente ha un nome entro lo saluti e non risponde e vedo che ha visto eh perché io vedo qua chi ha visto questa gif che io ho postato ci sta Leonardo allora come mai questo mongoloide qualcuno gli dice benvenuto e lui non risponde senza parole guarda a me questa cosa mi mi fa vedere come cioè il perché noi siamo trattati come bestia perché noi siamo bestia cazzo non c'è altro modo di trattare queste bestie che come fanno questi che ci controllano solo le bestie possono andare in giro e sporcare per dire la natura o sporcare per terra per dire non c'è stato altro modo queste bestie vanno mantenute e vanno controllate e gli devi mettere anche il succo ogni tanto perché sono bestie non c'hanno un cazzo da dire vengono qua per intrattenimento coglioni totali dopo il 2020 porca troia ancora non connettono ancora cazzeggiano mi chiedono di fare video su questo e su quello invece di minchia invece di essere così adesso porca dove cazzo sta questa qua perché non siete tutti così invece sono tutti così morti così di morti così ci contavo da morti non cazzo sta questa qua non cazzo sta questa qua